Margherita, 25 anni, farmacista Ravennate Doc, partirà tra poche settimane per la spedizione più lunga mai realizzata dal format televisivo Don Avventura. Lei ed altre 4 ragazze, selezionate su 110.000, saranno le protagoniste di un viaggio che durerà 4 mesi. Nella farmacia in cui lavora a Porto Fuori ci ha raccontato di come è iniziata questa splendida avventura e di come è riuscita a realizzare questo sogno nel cassetto. Allora, tutto è iniziato l'anno scorso quando a casa stavo guardando il programma con mio fratello che era stato a New York e aveva visto Le Donne Avventura per New York e stavamo appunto guardando questa puntata e lì mi è venuto e ho detto ma chissà quest'anno dove andranno e ho aperto il sito internet e c'era la possibilità di partecipare così ho mandato la mia mail e alla fine dopo una serie di provieni, anche disavventure, sono riuscita ad arrivare in finale mi sono impegnata un sacco perché c'erano state comunque tante richieste, erano tante ragazze che avevano fatto domanda 110.000 quest'anno e alla fine da 110.000 c'è stata una scrematura di 100, queste 100 siamo diventate 30 poi da 30, 12, 12, 9, 9, 7, 7, 5 e si parte il 22 agosto destinazione a Madagascar, c'è un indiano uno dei viaggi che sogno da sempre è Kenya e poi le isole Seychelles, Mauritius, Rodriguez e poi si vola negli Emirati Arabi a Dubai, a Abu Dhabi e poi si visiterà il deserto e la parte dell'Oman. Un viaggio da favola? di più, un viaggio, proprio penso che, penso di essere veramente stata baciata dalla fortuna l'ho sudata perché sono stati, nei tre giorni di selezione ad Andalo sono stati tre giorni di provini di comunque anche prove fisiche, test drive, però dai ce la siamo cavata abbastanza bene e poi alla fine insomma abbiamo giocato, ci siamo giocate il tutto e per tutto col personal show dove era improvvisazione e alla fine insomma è andata bene anche quella e sono finita tra queste cinque fortunate viaggiatrici. Senti, le tue compagne di viaggio le hai conosciute? Che età hanno? Da dove vengono? Tu sei l'unica che difende la bandiera romagnola? Allora io sono l'unica mangiatrice di Piadina Original e le altre sono una ragazza toscana Michela che ha la mia età, 25 anni, poi Jennifer che è di Benevento ma vive a Roma, Veronica romana verace e Giorgia anche lei rossa bellissima, romana anche lei, un pochino più piccole ma sono tutte ragazze in gamba, molto mature secondo me sono tutte pronte per affrontare l'avventura ed è il team che io comunque avrei scelto se mai fossi finita in questo viaggio. E senti, e che cosa hai avuto di più delle altre 110.000 ragazze? Questo non lo so, sicuramente la faccia tosta durante i provini, poi forse il fatto comunque di essere sempre rimasta quella che sono tutti i giorni, di aver raccontato un pochettino quello che faccio, sono una persona comunque che si impegna nel lavoro, sono una persona comunque abbastanza responsabile, visti gli impegni che mi sono presa già da tanto tempo e quindi credo insomma di averli convinti anche con queste qualità. E ultima cosa, come ti stai preparando psicologicamente ma anche diciamo così, proprio le cose più semplici, tecnicamente la borsa, la valigia, non lo so? Allora, per quanto riguarda borsa e valigia il pensiero non è proprio esagerato perché abbiamo uno sponsor che ci fornisce dalla testa ai piedi, che è prima classica, accompagna le donne avventura da sempre, da tanto insomma. E no, non sono ancora nell'ottica di quello che sto per vedere, per fare, ogni tanto provo immaginarmi, dire, ma farò 28 giorni, sarò in Madagascar, in Mazdailemuri, ma ancora non realizzo. E niente, sono, per adesso niente, si continua a lavorare, vedere gli amici, solite cose, poi secondo me quando inizierà arrivare, se avvicinarsi la partenza si inizierà a sentire un pochettino d'ansia, però ho talmente voglia di fare questa cosa che diciamo che sono molto serena.